Quello che accade nel territorio esontino, credetemi, è veramente difficile, potrei scrivere un libro e penso che a fine della giunta Seracchiani lo farò, perciò vi lancerò degli spot. Vi dico che quello che accade nell'isontino ha dell'incredibile, del surreale e veramente dell'inaccettabile. Se parliamo di sanità vi posso benissimo raccontare che abbiamo di giorno o de' automediche su d'ospedale, corrissemo un falcone, di notte ne abbiamo solo una che staziona addirittura a Gratischia nel mezzo. Non capisco il medico poi a bordo cosa fa tutta la notte, ma lascio a voi le dovute considerazioni. Se parliamo di pediatria, a Gratischia ha 4092 bambini, e parlo solo di Gratischia, se poi invece calcoliamo tutte le comunità intorno, vi racconto che sono ancora di più, e noi abbiamo un servizio pediatria che chiude alle 18, perciò abbiamo detto ai nostri bimbi, mi raccomando non ammalatevi dopo le 18, e questo è molto importante, perciò lo ricordo a tutti coloro che hanno i figli nell'isontino di non ammalarsi dopo le 18. Se poi invece parliamo addirittura, ce n'ho una fresca fresca, perché mentre venivo qua un cittadino mi ha chiamato in macchina, imbufalito, e utilizzo questo termine perché siamo in una pubblica patria con gentiluomini e gentildonne, perché addirittura l'acqua non viene più servita nel vassoio, ma la devono andare a prendere loro non so come e non so quando, stessa cosa per l'olio e per il formaggio. Penso di avervi dato un quadro, credervi che noi veramente siamo sotto assedio nell'isontino, perché quello che accade nella sanità, credetemi, se eravamo in un'altra regione dove l'aggiunta non era Serracchiani, non era PD, erano già venuti i vari visori dal Ministero a chiudere tantissime strutture, ma soprattutto ad arrestare qualcuno, perché credetemi, non ce la facciamo più. Se parliamo dell'immigrazione vi posso raccontare benissimo che Gorizia e Gradisca, due comunità a 12 km di distanza, Gorizia 35.000 abitanti, Gradisca 6.000, vi dico che in tutto hanno 700 profughi. Un piano regionale sull'immigrazione che è nel cassetto mai partito, perché Gorizia dovrebbe ospitare al massimo 70 profughi, e tutto questo vi dico che, nonostante tutte le varie sollecitazioni, veniamo definiti come un'amministrazione comunale, quella di Gorizia e soprattutto quella di Gradisca, che hanno il peso più gravoso sulle spalle, come delle amministrazioni non accoglienti, perciò veramente siamo al paradosso. Questo per darvi due spot. Vi lancio l'ultimo spot, perché non contenti di questo, visto che poi l'altra sera discutevo con l'assessore Torrenti, che noi abbiamo messo due assessori in giunta, io gli ho detto carinamente, era meglio che non li mettevate se questi sono gli esiti. E concludo dicendo che poi completerà il discorso dei musei l'amico Deve Pak, vi dico che in tutta questa parentesi abbiamo anche lo scippo dei musei provinciali, visto che Gorizia è una comunità soprattutto che vuole puntare sul rilancio turistico e quale è la migliore occasione che non prendersi i musei provinciali e a centrale regione. Grazie!